Reperire strutture, hotel e spazi dove ospitare i profughi provenienti dall'Ucraina. Oltre a garantire tamponi e vaccini anti-covid ai rifugiati. Il Governo allerta prefetture e regioni per dare il via al piano di accoglienza dei rifugiati, di cui i governatori sono i nuovi commissari delegati. Provvederanno a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente da quel territorio di guerra. Dallo scoppio del conflitto sono arrivati finora quasi 10.000 ucraini, in gran parte donne e bambini, soprattutto attraversando in auto la frontiera italo-slovena. E l'incremento quotidiano sta aumentando. I presidenti di regione che lavoreranno a stretto contatto con le prefetture si sono già attivati e anche sul fronte sanitario a breve potrebbero arrivare nuovi provvedimenti. In Italia ci sono in tutto oltre 248.000 ucraini, di cui 190.000 sono donne. E le persone che arrivano si rivolgono ai loro parenti, ma hanno comunque bisogno di assistenza. Intanto la Giunta regionale calabrese ha approvato una delibera per consentire ai sindaci calabresi che ne faranno richiesta di destinare alcune abitazioni a profughi ucraini in fuga dalla guerra. È un modo concreto di dimostrare come la Calabria, che è una regione che ha grande necessità di solidarietà da parte della comunità nazionale, riesce a sua volta ad essere solidale nei confronti di quelli che hanno bisogno, soprattutto di quelli che appunto scappano dalla guerra e fino a qualche settimana fa vivevano come noi, come tutti gli europei, quindi vogliono continuare a vivere conservando la loro libertà. Come sapete, non sempre la Calabria riesce a spendere in maniera veloce e produttiva. 4 milioni per la rifunzionalizzazione delle abitazioni, 1 milione e 2 per le prime spese. Però se il governo dovesse rendere disponibili, come ci auguriamo, risorse del governo per queste attività, è evidente che utilizzeremo quelle risorse. Ci si aspettano flussi consistenti per tutta l'Europa e anche per il nostro paese. Il console ucraino che ho sentito ieri mi segnalava che la Calabria, dopo la Campania, è la regione che ha le più numerose presenze di ucraini allo Stato, quindi iniziative del genere vanno nella direzione di favorire anche il ricongiungimento familiare.